È stato un Natale diverso anche nelle case di riposo, nelle RSA, alla Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova, però non avete voluto far mancare le emozioni agli ospiti, ai parenti. Ecco, qual è l'idea che avete realizzato? Esatto, la parola fondamentale è emozione. Abbiamo pensato come far emozionare i nostri ospiti la mattina di Natale e, ad altro canto, come far emozionare i parenti. Abbiamo sviluppato questo progetto con la Fondazione pensando appunto di veicolare le emozioni che tutti noi portiamo la mattina di Natale e che purtroppo quest'anno, come tutti sanno, è un Natale un po' diverso. Il progetto si è intitolato Viviamo distanti, emozionateci di istanti. È stata un po' questa la scommessa. Abbiamo chiesto all'insaputa degli ospiti, a tutti i parenti, di inviarci i loro videomessaggi di auguri, di saluti e, al contrario, nel contempo abbiamo poi strutturato per ciascun ospite, con loro, abbiamo costruito i loro videomessaggi da mandare ai parenti. È stata davvero un'esperienza unica, irripetibile, dove davvero l'emozione di tutti nel creare gli auguri per i propri cari è stato eccezionale. Devo ringraziare tantissimo i parenti che ci hanno mandato veramente dei videomessaggi unici, veramente emozionanti. E la mattina di Natale, quando siamo entrati e abbiamo fatto vedere a ciascuno ospite questi videomessaggi personalizzati, è stato davvero il Natale più bello, per noi soprattutto. Vedere i nostri ospiti emozionarsi, commuoversi, la felicità nei loro occhi è la cosa che sicuramente ci riappaga di tutto questo periodo un po' balordo. Nello stesso tempo, la mattina, dopo aver visto gli auguri dei propri familiari, dei propri figli, abbiamo, per ciascun ospite, abbiamo spedito i loro videomessaggi ai parenti a casa. E da parte loro è stata veramente una cosa eccezionale vedere quanto la tecnologia ci è venuta ad aiutare in questo caso. L'emozione dello spedire il messaggio, il loro videomessaggio costruito in 15-20 giorni con tutte le loro fotografie, la musica di Natale e vederselo recapitare è stata davvero una cosa molto molto interessante. Abbiamo cercato quest'anno di emozionare loro, ma penso che ci siamo emozionati anche noi. Penso che sia stato davvero un Natale in cui la parola d'ordine e l'emozione ci ha rinfrancato rispetto al periodo che stiamo vivendo. Progetto è andato bene? Progetto decisamente è andato bene. Vorrei ringraziare la fondazione e soprattutto tutti i parenti che hanno partecipato a questa cosa. E in primis vorrei anche ringraziare i nostri ospiti che si sono per una volta prestati ad essere veri attori per i propri auguri.